Ciao a tutti, qui è di nuovo la vostra Hannah Vogel, bello che siate di nuovo con me e ragazzi guardate dove sono, nel contenitore. Sì, nemmeno io so cosa stia succedendo stavolta, in ogni caso devo capire come scappare di nuovo dalla polizia e naturalmente vi porterò con me, dopo tutto ho bisogno del vostro supporto ragazzi. Andiamo! Ok ragazzi, come vedete non sono nemmeno del tutto solo qui, qui ci sono altri che stanno cercando di scappare dalla prigione. La cosa buona è che ci sono delle frecce sul pavimento e una freccia sul muro che mi indica un po' la direzione in cui potrei andare e qui vedo già il primo passaggio segreto. Ok ragazzi, allora sono arrivato nella stanza successiva e penso di aver capito come funziona, quindi dobbiamo vedere come passare da una stanza all'altra senza magari cadere giù da qui per esempio e non dovrebbe cadere perché altrimenti bisogna rifare tutto da capo e beh ma non è poi così grave, soprattutto quando siamo in tanti che vogliamo fuggire dalla prigione, a volte ci si mette un po' in mezzo ai piedi e cose così, eh insomma comunque finalmente ci sono riuscito. La mia cella è stata svuotata. Oh mio Dio, no, l'ha prescata. È già il poliziotto, quindi? È davvero stare attento, in fondo voglio sfuggire alla polizia e quindi, eh, ora mi comporto bene. Ah, grazie. La mia occasione, oh no, mi ha scoperto, ma ragazzi c'è un pulsante che devo assolutamente premere e... Oh ragazzi, questo poliziotto mi ha... Mi hanno catturato e rimandato qui e devo davvero pensare a come passare oltre, intendo dire, sono sicuramente più veloce di questo poliziotto. Ah, oh mio Dio. Il cappetto è di nuovo marchiato. È davvero veloce ragazzi, ok, devo essere un po' più veloce. Neve, 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 neve ragazzi. Ok, ce l'ho fatta. Il poliziotto non poteva più seguirmi. Evviva! Cosa pensava? In fin dei conti sono Anna Vogel e oh mio Dio, sono caduta. Comunque volevo dire, sono sempre Anna Vogel e ce la farò di sicuro. Fuggire dalla polizia e scappare dalla prigione. Ma oh mio Dio, siamo così tanti che vogliono scappare e io sono semplicemente saltato fuori. Caduto di nuovo! Oh, va bene. Devo calmarmi un po', ragazzi e questa volta salto con concentrazione e sono già nel prossimo passaggio segreto. Allora ragazzi, va bene. Allora, sembra che ora sono nel bagno, eh sì? E ora, come dovrei scappare da qui ragazzi? Beh, vediamo un po', insomma. Anche un bagno non mi aiuterà adesso. Poi cos'è questo? Un bagno puzzolento. Ah, qui c'è. Una specie di pala è tutto. Forse questo mi porterà nella stanza successiva e diamoci un'occhiata. Sì, davvero ragazzi. Evviva! Ok, così possiamo andare avanti. Mi piace molto, fantastico. Eh oh mio Dio, qui bisogna stare molto attenti a non cadere perché il pavimento è lava, gente. Vedete? la lava è dappertutto. Lì bisogna davvero stare attenti. Ok, ora attraversiamo questo ponte. Sembra anche un po' instabile, ma ce l'ho fatta ragazzi. E wow, qui bisogna stare veramente attenti. Vedete quanti ostacoli avete messo in prigione? È davvero... è pericoloso. E oh mio Dio, sta rotolando lì. Venite qui. Devo stare ancora più attento. Non vorrei essere travolto qui ragazzi. Seriamente adesso. Wow! Oh mio Dio, ma cos'è questo? Veloci! Andiamocene subito. Ok ragazzi, sono arrivato nella stanza successiva e oh, non ho idea di dove mi trovo esattamente, ma c'è una leva qui. La tiro e... Ops, mi ha appena catturato. Ma ragazzi, sono riuscito a aprire quel cancello e devo passare di lì. E oh mio Dio, questo poliziotto è veloce, ma io sono veloce perché sono a casa. Io sono inglese e sono quassù e... Non laggiù! Kiki, e ora girati una volta. Non armeggiare e non perdere tempo qui. Woohoo! Ok ragazzi, adesso siamo qui. Sembra che questa sia l'uscita, ma oh mio Dio ragazzi, come faccio a saltare? È davvero troppo lontano? Dice Ubi! Quella è la caffetteria, gente! Dobbiamo andare lì perché è l'uscita! Ma come ci arrivo? Allora dovrò andare di qua! Cosa c'è da bere qui? Oppure cosa? In real... Bevanda energetica e... Cos'è successo ora? Guardate, quanto sono veloce all'improvviso! Oh mio Dio, è fantastico ragazzi! Mi sento come se potessi volare! Onestamente, è incredibile! Oh mamma, arriva! Oh ragazzi, sono super veloce! Oddio, ho dovuto fare una pausa un attimo! Ah, adesso basta! Hihi, ora sono arrivato qui! Devi essere abbastanza atletico per fuggire di prigione qui, ve lo dico com'è! E adesso sono nella stanza accanto! Guardate laggiù ragazzi! Credo si continui da lì, giusto? Così sembra almeno, ma avrei bisogno di una scala o qualcosa del genere? Uffa! Ma come ci salgo? O forse così? Oppure qualcosa su cui possa arrampicarmi? Veloce! Forse queste scatole qui? Oh, oh mio Dio! Ma cos'è questo? Uh, un pulsante! Lo premo! Guardate ragazzi! Solo una scala! Ovviamente! Lo prendo! e ora posso volare in alto! Oh mio Dio! Qui è tutto un disastro! Vento? Che cos'è? E oh! Sono stato spazzato via dal vento per un attimo, ma non è un problema, posso... Eeeeee! Sto correndo, ma oh mio Dio! Questo vento è davvero forte! Grazie, Hitler! Alla prossima! Chiudilo! Oh! E adesso? Non ho idea di dove mi trovo e... Wow! Sono caduto di nuovo! Ragazzi, non è affatto facile scappare da una prigione! Allora, da questa parte... E di nuovo qui... E poi qui... Accidenti! Ma che vento c'è di nuovo qui? Ehi, c'è qualcosa là! Eh, vediamo! Ehm... Dai ragazzi, sparate! E chiudi le valvole! Ok! Sì, ha senso! Dobbiamo solo cercarli! Vedo che ce n'è già una lì sotto! E... laggiù! Una e ce n'è un'altra! Ok! Quindi, li ho già trovati tutti e tre! Ora devo solo tornare veloce e chiuderli tutti! Ok! Tutte e tre le valvole sono chiuse! E ora posso attraversare tranquillamente da questo lato! È davvero interessante scoprire le stanze! Non è davvero la prima volta che sono in qualche prigione qui e dovevo scappare! E ogni volta è in qualche modo un po' diverso! Hihi! E tu? Qui mi sembra quasi di volare di nuovo! Comunque c'è un vento così forte! Oh mio Dio! È così divertente ragazzi! Evviva! Fate largo! Evviva! Eccoci! Evviva! E ora sveltamente e arrampicarsi su! Dove? Dove sono? Ah! Eccomi qui! Ah! È stato veloce! Oh mio Dio ragazzi! Ce l'abbiamo fatta! Siamo arrivati alla caffetteria dall'altra parte! Vuol dire che ce l'abbiamo fatta! Siamo scappati di prigione! Là c'è già l'uscita! Ci vado subito! Sono veramente 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 felice ragazzi! Sì! Grazie mille per il vostro supporto! Ah! È davvero divertente! Cari amici! Se vi siete divertiti quanto me lasciate pure un like e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella! Così ci rivediamo al prossimo! Alla prossima! Ciao! Ciao ragazzi! Sono Julian Vogel! E se volete sentire ancora di più da noi, cioè dalla famiglia Vogel, date un'occhiata su Spotify o su iTunes o anche su Amazon Music perché lì troverete i nostri fantastici audiolibri e... Credimi! Sono davvero forti! E sì! Ascoltatele! Divertitevi! Divertitevi!